Non butterai mai più le bucce di cipolla dopo aver visto questo video. Le cipolle sono un cibo dai benefici incredibili, noti da millenni in tutte le medicine popolari. Ma non solo l'ortaggio anche la buccia contiene nutrienti importanti. La buccia di cipolla contiene calcio, cromo, potassio, magnesio, ferro, rame, selenio. Lungo la buccia possono esserci dei cristalli di forma allungata, sottili. Contengono flavonoidi potenti, gli stessi che si trovano nell'aglio e nel tè verde, con il potere di regolare l'orologio biologico e ottimizzare l'ossigenazione del sangue. Come si usano le bucce di cipolla? È facilissimo. Si prepara un infuso dai benefici straordinari, come ridurre dolori, infiammazioni, combattere i disturbi del sistema respiratorio, è diuretico e antimicrobico, sostiene il sistema immunitario, sostiene la vista e aiuta a far passare gli occhi arrossati. Come si prepara l'infuso di buccia di cipolla? Dipende dal tipo di rimedio che si vuole preparare. Ecco i migliori usi delle bucce di cipolla per la nostra salute. Tosse e mal di gola Far bollire a fuoco lento 2 cucchiai di buccia di cipolla tritata. Per 15 minuti lasciare raffreddare, filtrare e bere 1 quarto di tazza 3 volte al giorno, raffreddore e naso chiuso. Mettere 4 cucchiai di buccia di cipolla in 1 tazza e riempire la tazza di acqua bollente. Subito respirare il vapore per 5 minuti, gengivite e dolore ai denti. Fare sciacqui con questa bevanda. 3 cucchiai di buccia di cipolla tritata mescolati con 0,5 litri di acqua bollente, lasciati in ammollo, per 7 ore. Filtrare e usare come un colluttorio naturale. Cistite e infezioni urinarie. Bere 1 cucchiaio di questo decotto 3 o 4 volte al giorno. Mescolare 3 cucchiaini di buccia di cipolla tritata in 2 tazze di acqua bollente. Lasciare raffreddare, e filtrare prima di bere. Ipertensione. Bere un tè di buccia di cipolla aiuta a ridurre il sodio nel sangue. Infondere la buccia di 1 cipolla in acqua calda, come fosse la bustina del tè. Bere a piacere. Visto quanti benefici straordinari. Ecco perché dopo aver visto questo video non butterai mai più le bucce di cipolla. Ovviamente. Cipolle biola cui buccia non è stata trattata chimicamente. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi. E grazie per aver guardato questo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.